A Montecori c'è un'occasione dei festeggiamenti di San Biagio Martire, concerto del coro interparrocchiale di San Costabile di Castellabatingo. Allora è stata sicuramente una bellissima esperienza il fatto di essere stati invitati, di essere qui e ci ha resi veramente gioiosi per questa possibilità perché portare avanti un coro grande in questo modo insomma è sacrificio, è gioia e quindi avere la possibilità di esprimere il frutto del nostro lavoro è sicuramente una cosa molto bella. Quindi ringrazio Don Olgred, il Comitato Festa che ha voluto la nostra presenza. Grazie, grazie mille. Oh Signore, mangerò il tuo corpo e riceverò nel cuore il dono di salvezza. Questa è una mia passione che coltivo da anni e mi fa piacere condividerla con il coro sicuramente perché è un qualcosa che mi appaga, mi fa stare bene e poi è una bella esperienza che davvero condivido con gioia come ha detto anche lei, perché mi arricchisce nell'anima.